Al di là di tutto questo c'è poi l'altra questione che è quella del reddito di cittadinanza perché oggi Meloni ha detto che il reddito di cittadinanza non ha contrastato strutturalmente la povertà, non ha funzionato per reinserire le persone al lavoro e se i 5 Stelle lo intendono come un vitalizio dai 18 anni fino alla pensione, la Meloni non è d'accordo. È un po' a ragione però sul fatto che non è servito reinserire nel mondo del lavoro, che insomma non ha un po' di ragione anche la Presidente del Consiglio. No, io le ho dato ragione sull'ergastolo stativo, le ho dato ragione su altre cose, non penso che tutte le cose che dice fa la Meloni solo perché le fa e le dice la Meloni sono sbagliate, ma questa è la più sbagliata di quelle sbagliate che dice, perché ignora completamente tutti gli studi sul tema. IMPS, Svimez è uscito ieri, Istat, Censys, Unione Europea, Caritas, Forum delle Deguaglianze, chiunque si sia occupato di questo tema ci dice che ogni anno il reddito di cittadinanza ha tolto dalla povertà un milione di persone. Stiamo parlando di quelli che lo ricevono, quindi poi ci sono le famiglie, quindi stiamo parlando di molte più persone. E in questo momento lo Svimez, cioè il Centro Studi per lo Sviluppo Industriale del Sud, ci dice che l'anno prossimo noi avremo il Nord quasi a più zero e il Sud sotto zero, quindi in recessione, il che vuol dire che quei due terzi di percettori del reddito di cittadinanza a cui verrà tolto da agosto, non solo resteranno senza un soldo, ma raddoppieranno perché l'anno prossimo al Sud entreranno in povertà altrettante persone, 750 mila persone in povertà assoluta al Sud nell'anno prossimo. Per quale motivo? Perché l'inflazione morde di più al Sud, perché il caro bollette morde di più al Sud, perché al Sud ci sarà meno lavoro come c'è meno lavoro e quindi continuare a scambiare i disoccupati per occupabili fancazzisti significa non capire la realtà. La Meloni ignora addirittura il fatto che ormai anche chi ha lavoro chiede il reddito di cittadinanza perché nel Sud un dipendente su tre guadagna meno di 10 mila euro all'anno e chiede di integrare quel misero stipendio mensile che non gli basta con il reddito di cittadinanza per arrivare almeno a 780 euro al mese. Stiamo parlando di un problema enorme che viene liquidato con due o tre slogan che non hanno alcun senso. Dopodiché affari suoi, oltre che affari di quelle povere persone che resteranno da agosto a zero, con sedere per terra. Perché vuol dire che Campania resteranno sull'Astrico 230 mila famiglie in più, in Calabria 59 mila in più, in Sicilia 182 mila in più, in un paese che non solo non avrà più lavoro ma ne avrà meno. Dopodiché dire che il reddito non è servito a trovare lavoro è un'assurdità perché il reddito non serve a trovare lavoro. Il lavoro lo creano le imprese e lo Stato che dà la possibilità alle imprese. Noi negli ultimi due anni ci siamo salvati col boom dell'edilizia per il super bonus e un pochino per il PNRR. Adesso viene raso al suolo pure il super bonus. Auguri! Io non so chi deve cercarlo quel lavoro se non lo trova. Cercalo sì, ma se non lo trovi. Ecco però Marco... 300 mila percettori del reddito hanno trovato un lavoro. Ma gli altri non l'hanno trovato perché non c'è. Non perché non erano capaci a trovarlo. C'è un piccolo problema.